e abbiamo cambiato mappa siamo sulla mappa della banca e qui bisogna ovviamente cambiare tipologia di tattica di arma tipo di arma a parte casi senti casi eh no se pensai di venire in quattro chi è che mi ha salvato a morire io grazie prego senti casi senti eh madonna no 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 perché no ma se vi sentite di camperare sentite di camperare dai marco muori e cazzo e va di buddh che arriva la sua arma vedi in mezzo e secondo me gli antiterroristi sono un po' agevolati con qualche arma e grazie a me con qualche robetta in più eeeh secondo me sono un po' agevolati leggermente no tanto nemmeno le stesse armi circa notare marco il tempo da cui è iniziata la partita e che non si pregge a 77 punti maaaaa eeeh chi è che uuuh camper qua e la questo è quello 99 grazie eh cioè morster altro che camper qua morster stava mettendo giù 110 eeeh casa fondamenta aia chi è vuol dire eeeh no vabbè se vi pensate di camperare e anche in occhio in occhio in telemunizioni casi aia 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 sto ricaricando ma devi aspettare a spararmi se sto ricaricando porno ma mi se ne frega guarda non riesce un'altra parte neanche da fa guarda non riesce un certo da parte neanche da fai uuuuh ho capito che mi ha fatto farti fuori pensa a te come ero messo male no, pensa a te come sei messo male è diverso la question su che cazzo spari ma che maledetto una bora 3s mamma matti maledetto gas non spari ho visto dov'è monster ho visto dov'è monster si è monster si è pollo è pollo alle spari oh ma allora ragazzi avete visto che razza di botta boffice che ha bulldier c'è una roba assurda c'è una cosa assurda uno spawna se lo ritrova sempre alle spalle ma una roba maledetto la fortuna che non sono gay se no chi è che è cavolo non ho visto il mirino trovo qualche dubbio devi metterle al gallo tanto te no 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 non ho visto il mirino contro il suo e siccome è solo un puntino rosso che ma no no ho letto le palle era un assalto perfetto perfetto è venuto dietro mamma mamma guarda ma in server che laggo sono io io ho 39 di ping sembra essere io ho 400 300 ora guarda eh avevo visto uno mi sembrava di aver visto un'ombra maledizione per dindirindina acitribulina e che accipicchia no maledetto oh maledetto guardalo per lei mi ha smutato a sto qua poi ecco sono io si quasi non spararmi addosso pollo camperone dentro alla cassa forte ah guardavo io che svedevo due gambe sotto il rimorchio chi era guardalo ehi no maledizione ripristinato ripristinato qua qualche problema che c'era perchè purtroppo a volte se mi fanno fuori l'attimo che se mi fanno fuori se mi fanno fuori l'attimo che sto girando verso sinistra ragazzi mi passa e clicco sul secondo schermo e di conseguenza con fraps aperto ehm c'è per essere giusto con l'ultimo colpo non so niente come fare guardalo guardali maledetti ah ancora la sei ciao ciao monster oh 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 sono contro la violenza io ciao ciao monster ciao casi che ma che sta migliorando piano piano ho fatto quel pompa che lo fa fu casi casi non puoi sto facendo un assalto a a monster non puoi venirmi così con fucile a pompa vai casi vai casi ci sta bene impari a portare al rispetto guardali guarda che basta guarda siete fortunatissimi che non ci sono le granate capito in questo gioco perchè sennò oh ragazzi ehm dai un assalto un comando armato e bisogna andare sul furgone perchè sono dentro al furgone ecco uno è uscito e sono usciti tutti e due che non muore guardali che non muoiono guarda cioè ragazzi si deve no parla no no parla altro dal distributore di benzina che mi ha fatto no come ho detto come ho detto facciamo l'assalto come come dire due due cose sono uscite sgusciate fuori da 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 no guarda guarda che mi riparo anche dentro oh la oggi oggi eh dammi il tempo di spawnare eri anche invisibile mi è andata male madonna no no non sei morto non ci credo sto perdendo ma hai avuto hai avuto un buco non sa quanto grande ciao cantina si ti prendo in testa non muore oh adesso basta però e c'è caso col pompa di bubire ma marco ma cagare non aspetta oh la ma lontano vediamo di ripristinare un po' l'ordine no no si ma perchè mi cambia ma non hai cazzato premi F3 no 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 cavolo ma sempre l'attimo che devo ricaricare hai letto le pande anche a me sto muore sempre per quello si tista bomba aracata che è solita classica fortuna di spawnare a fianco a uno che spena rispauna ma dove vuoi che spara? e che spara? e che spara? monster ah aspetta che campano qua sopra tomati intanto ma che si nooo stava per essere eseguita l'ultima kill 18 a 20 20 31 ai 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 vabbè ragazzi e anche questa mappa l'abbiamo fatta adesso ci sarebbe questa ma meglio noi che non la facciamo meglio 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 non la facciamo non la facciamo non la facciamo la facciamo Grazie a tutti